Un minuto di silenzio per i 40 morti sul lavoro del 2023 in Piemonte. Arpa quasi 7 milioni per la vigilanza ambientale. Venezuela condanna violenze contro il convegno di federvita de blistering. L'aula ha approvato tre ordini del giorno. Nuova edizione di Consiglio News. Ben trovati. L'Assemblea legislativa piemontese ha ricordato con un minuto di silenzio i 40 morti sul lavoro del 2023 in Piemonte. Si è celebrata domenica scorsa la 74esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il Consiglio regionale ha ricordato coloro che in Piemonte hanno perso la vita in questo modo. La sicurezza sul lavoro è un dovere che deve essere capito e diffuso fra tutti, datori di lavoro, lavoratori, istituzioni, sindacati e cittadini. Ritengo però che piuttosto che prevedere l'introduzione di nuove norme dovremmo concentrare energie e risorse per fare in modo che quelle vigenti vengano applicate e fatte rispettare in maniera puntuale. Alle parole del Presidente alla lettura dei nomi delle 40 vittime del 2023 è seguito il minuto di silenzio dell'Aula. Alla commemorazione hanno partecipato anche il Direttore Vicario Dellina e il Vita Rocca Romaniello, il Presidente Territoriale Anmil Torino Giulio Garello e il Consigliere Territoriale Anmil Sebastiano Aurea. ARPA quasi 7 milioni per la vigilanza ambientale, approvata la legge che permette l'utilizzo dei ricavi delle sanzioni 2015-2022 in Piemonte. I 6 milioni e 919 mila euro accantonati dall'ARPA derivanti da sanzioni tra il 2015 e il 2022 saranno destinati ad attività di vigilanza e controllo ambientale. Lo prevede la legge approvata a maggioranza in Consiglio regionale come modifica della legge 18 del 2016. Relatori del provvedimento Marco Protopapa, Lega per la maggioranza e Alberto Unia Movimento 5 Stelle per l'opposizione. Un modo pragmatico di operare soprattutto grazie a un controllo che c'è stato che è servito a questo punto a dare veramente un segnale di attenzione da parte della regione. Soprattutto oggi che a distanza di 10 anni ci sono tanti servizi più innovativi che hanno bisogno di un impegno, queste risorse di 6 milioni e 900 mila euro vengono bene per poter migliorare questo servizio. Questa modifica sblocca questi fondi che vanno dal 2015 al 2022 per poter essere poi utilizzati in questo caso da ARPA Piemonte per ulteriori controlli sulla qualità dell'aria e dell'ambiente. Una parte verranno utilizzati nel nuovo piano tutta la qualità dell'aria, altri servono anche per acquistare delle attrezzature che utilizzeranno ARPA per migliorare l'efficienza del monitoraggio. Quindi è una bella cosa, un bel messaggio, non chiediamo ulteriori soldi al bilancio regionale, usiamo quelli che erano custoditi da ARPA in questi anni. L'Aula ha approvato all'unanimità la proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2026. Come ha spiegato il consigliere segretario dell'ufficio di presidenza Fabio Carosso, per l'esercizio finanziario 2024 i positivi andamenti generali risultano sostanzialmente confermati rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione iniziale. Le spese correnti, ha ricordato Carosso, sono assestate in 59,6 milioni di cui 6,2 di avanzo accantonato e vincolato e 2,7 milioni di somme provenienti dagli anni precedenti. Le spese in conto capitale, pari a 33 milioni circa, sono invece finanziate per 30,7 milioni da entrate degli anni precedenti e con un margine positivo corrente di circa 2,3 milioni. Solidarietà al popolo venezuelano, condanna alle violenze contro il convegno Federvita, deblistering per una medicina sempre più a misura di paziente. L'Aula ha approvato tre ordini del giorno su questi temi. Profonda preoccupazione per la grave situazione di crisi che sta affliggendo il Venezuela e una richiesta al Governo perché si attivi per monitorare costantemente la situazione e promuovazioni diplomatiche per riportare lo Stato di diritto e la trasparenza elettorale. E' quanto chiede il Consiglio regionale attraverso un ordine del giorno a prima firma del Presidente Davide Nicco, approvato all'unanimità dei votanti con i gruppi di opposizione che non hanno partecipato al voto, proposto dall'Ufficio di Presidenza su impulso del Comitato regionale per i diritti umani e civili. Con 27 voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio regionale ha dato il via libera anche all'ordine del giorno a prima firma Alessandra Binzoni, Fratelli d'Italia, illustrato in aula da Paola Antonetto, Fratelli d'Italia, che condanna gli episodi di violenza e le minacce di morte rivolte all'assessore regionale, alle politiche sociali Maurizio Marrone e agli organizzatori del convegno di Federvita sulla tutela sociale della maternità, bloccato sabato scorso dalle manifestanti femministe, ed esprime solidarietà al personale sanitario che attua la legge 194. Respinto invece l'ordine del giorno a prima firma Sara di sabato Movimento 5 Stelle, che chiedeva alla Giunta di farsi portavoce per l'approvazione di una legge nazionale che vieti ai gruppi pro vita l'accesso negli istituti dove si praticano le interruzioni di gravidanza e l'abolizione del fondo regionale Vita Nascente. Ha acceso il dibattito in aula sull'argomento con gli interventi di numerosi consiglieri e consigliere di maggioranza e opposizione. Il tema dell'aborto, in particolare delle associazioni pro vita che operano nella stanza dell'ascolto dell'ospedale Sant'Anna di Torino, è stato anche al centro di due interrogazioni presentate nell'ambito dei question time, dalle consigliere Alice Raminale e Valentina Cera, alleanza Verdi Sinistra, a cui ha risposto l'assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone. Nella seduta pomeridiana di martedì il Consiglio regionale ha discusso altri due atti di indirizzo. Via libera all'unanimità con 39 sì all'ordine del giorno primo firmatario Marco Protopapa, Lega, per impegnare la Giunta ad attivarsi affinché l'attività di de-blistering venga normata e attuata su tutto il territorio piemontese previa una fase di sperimentazione. Il de-blistering è lo sconfezionamento di un medicinale industriale da parte di un farmacista per personalizzare la distribuzione del blister alle necessità del paziente e cliente. Respinta invece a maggioranza la mozione del primo firmatario Alberto Avetta, Partito Democratico, per l'attivazione di agevolazioni del trasporto pubblico locale. Nuovo piano sociosanitario, edilizia sanitaria, contrasto alle liste d'attesa. Sono queste alcune delle priorità su cui si concentrerà il lavoro della quarta commissione. Sentiamo il presidente Luigi Cardi e i due vicepresidenti Daniele Valle e Davide Eugenio Zappalà. Le vere discussioni, quelle più articolate, quelle più approfondite, dei provvedimenti che poi passano in consiglio prima devono essere discussi in commissione, in commissione sanità per quanto riguarda l'assistenza e per quanto riguarda anche il welfare. Ed è importante perché tutta la programmazione sanitaria passa da lì, tutti gli atti di competenza del Consiglio passano da lì e quindi c'è davvero la guida e il timone di quello che sarà l'attività consigliare, l'attività programmatoria. In primis il piano sociosanitario, l'edilizia sanitaria, il piano della ricerca e soprattutto anche quei provvedimenti che cercano di contrastare l'andamento ormai nazionale della lista d'attesa. Il nostro auspice è che presto la commissione possa occuparsi di un ridisegno complessivo della sanità piemontese attraverso l'adozione di un nuovo piano sociosanitario, cioè decidere una volta per tutte chi fa che cosa e dove e io paziente dove devo andare quando mi capita una certa cosa. La sanità come tanti altri campi è un mondo che si evolve continuamente, quindi investire nelle tecnologie e nelle competenze. È fondamentale lavorare anche per la riduzione delle liste d'attesa, ben sapendo comunque che parte del problema deriva anche dalla difficoltà di arruolare medici, infermieri e altre professionalità specifiche molto difficili da trovare sul mercato. La prevenzione salva la vita. Questo è il messaggio dell'Ottobre Rosa per la lotta al tumore al seno. Come ogni anno, il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la più frequente tra le patologie oncologiche femminili. Andos Onlus, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, in collaborazione con la Città della Salute di Torino e il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e della consulta femminile regionale di cui fa parte, ha lanciato la campagna Ottobre Rosa, con numerose iniziative volte a coinvolgere la cittadinanza attraverso campagne di sensibilizzazione e di screening gratuito. Il Consiglio regionale del Piemonte è accanto ad associazioni come Andos che quotidianamente sono impegnate in questa lotta per la vita che non finisce mai. Questo è il loro slogan. E siamo qui a mostrare vicinanza, sostegno ed impegno perché il prossimo piano sanitario regionale, per esempio, possa avere al suo interno un'attenzione e una cura rivolta proprio alla medicina di genere. Sarebbe forse necessario, e l'abbiamo chiesto in questa sede, estendere lo screening anche alle altre età, sia in età più giovane che in età più anziana, perché noi invecchiamo di più, siamo più soggetti alle malattie, siamo anche più soggetti ai tumori. Per questo forse bisogna rivedere l'età da affrontare come screening. Si è ridotta la mortalità di oltre il 40% grazie allo screening, quindi non possiamo dimenticarlo questo. Il 46% delle diagnosi fatte durante lo screening non sono palpabili, sono visibili solo ed esclusivamente con la mammografia. Quindi assolutamente bisogna seguire gli screening. Per quest'edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!